Oggi cominciamo, si alza il sipario su Integrate, primo festival nazionale di arte integrate complete, teatro, danza, musica, pittura e chi più ne ha più ne metta. Grazie a tutti. 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 via di qua ah non è via della liberazione no 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 qua via dell'inquisizione signor Claudio questo qui è il piccolo cieco andiamo andiamo è di qua Grazie a tutti